Buonasera a tutti e a tutte da Andrea Cartotto. Iniziamo la settimana con una bella novità in casa Pankwitz che ho il piacere di presentarvi come dimostratore ufficiale di questa bella risorsa interamente ideata e sviluppata da Paolo Mugnaini, una risorsa dunque interamente made in che credetemi vale la pena sostenere. Come già possiamo vedere dal sito di riferimento pankwitz.com, addirittura in basso a destra abbiamo un'icona verde, Whatsapp, che dimostra già l'inclinazione di Paolo ad accogliere anche qui proposte idee e risorse per completare sempre più questa risorsa didattica. La novità di oggi è la possibilità ad esempio di svolgere in Pankwitz un quiz anche in modalità asincrona, indifferita, cioè possiamo banalmente e semplificando sul nostro ambiente di restituzione, che sia WeSchool, che sia Classroom e così via, inserire comodamente un link o un QR code che permetta ai nostri alunni di svolgere in momento non sincrono l'esercitazione. Allora andate a consultare la playlist dedicata a Pankwitz sul mio canale YouTube e verifichiamo intanto come accedere e come testare questa novità. Io dal sito di riferimento clicco accedi. Vi sono anche le app ufficiali per Play Store e App Store, quindi per i sistemi operativi Android e per il mondo Apple. Accedo ora con il mio account ed ho il cruscotto, cioè la dashboard, molto intuitiva, vedete anche nella grafica e nei testi, dove ci sono un quiz, scopriamo insieme la storia di internet, che è stato creato da me in chiave di esempio proprio per i videocorsi ufficiali. Le note musicali, che è un quiz non mio, che però trovate perché io ho la possibilità di incorporare per la diffusione delle buone pratiche nel mio cruscotto di Pankwitz anche elaborati di colleghi. Ora, quando io ho realizzato un quiz, e lo vediamo bene, creato tot mesi fa, composto da una domanda, vedete che io ho la possibilità di cliccare modifica per integrarlo, revisionarlo o pubblica, ma ho anche un tasto condividi con il pulsante a cui ormai siamo tutti abituati dal mondo mobile. Bene, io clicco su pubblica, ad esempio, e vedete che ho stampa in pdf, lo ripetiamo perché insomma magari guardi per la prima volta un mio videocorso su Pankwitz, e dunque con la stampa in pdf ho un riepilogo pronto da consegnare e far compilare in cartaceo per i miei alunni, ho una possibilità di modificare con un programma di videoscrittura ulteriormente, il lavoro da noi preparato online, il gioco live, che poi è quello che appunto trovate già censito in un mio videocorso e che è molto carino quando abbiamo una lezione in didattica digitale integrata in presenza o a distanza, utilizzando ad esempio i tablet nei contesti di classi 2 o 3.0, o utilizzando i dispositivi personali dei ragazzi laddove questi siano a casa. Ecco, interessante è il condividi, perché con condividi in realtà il questionario genera un link univoco, e ho anche un pulsante, click, che mi genera un bel codice QR, ebbene questo link una volta selezionato e poi copiato con la consueta procedura, click tasto destro e click tasto sinistro su copia, posso andare poi tranquillamente anche su chiudi, mi permette appunto di far riprodurre questa esercitazione in differita e in assincrona ai miei allievi. Se io voglio simulare insomma questa modalità non faccio altro, io qui sono con browser Google Chrome, che cliccare in alto a destra sui tre pallini, clicco su nuova finestra di navigazione in incognito, e molte volte ho proposto questa procedura per avere sempre la visione docente ed alunno nello sperimentare una risorsa, in alto nella barra degli indirizzi clicco con il tasto destro, vado su incolla, vado a premere invio sulla tastiera, ed ecco che, hopla, ho la possibilità, senza dunque il PIN o un codice, che invece è utile per la partecipazione live, svolgere il mio questionario. Dai facciamolo rapidamente, in che anno è nata internet? Nel 1969, clicchiamo su invia, vuoi veramente salvare ed inviare le tue risposte? Sì, le voglio inviare. Voilà, questionario di esempio, una domanda, mi perdonerete, ed ecco il feedback. Quindi 10 su 10 punteggio, 100%, una risposta esatta e 0 errate, clicchiamo su visualizza ed abbiamo il riscontro. Vi posso già anticipare, in accordo con Paolo, che un'altra bella novità arriverà ed è quella legata alla reportistica. Quindi ha la possibilità di poter documentare anche in un tempo successivo allo svolgimento dell'esercitazione, quelli che siano stati gli esiti. Bene, allora, in un mondo tendenzialmente con derivazioni anglo-americane, è opportuno appoggiare e sostenere il progetto Made in Italy di Panquiz. Lascio a voi il divertimento di poter pensare e progettare dunque un'attività sicuramente stimolante per i ragazzi. Ancora un caro saluto da Andrea Cartotto e appuntamento a breve probabilmente sempre qui sul mio canale per parlare di Panquiz.